Ciao a tutti da Sport 2.0, oggi è il 29 ottobre 2013 e siamo al Palaruffini per assistere a un allenamento molto speciale della PMS. Proprio oggi infatti il Cid della Nazionale Italiana, Simone Pianigiani, è venuto a fare visita ai nostri gialloblu. Questa è una realtà che sta crescendo in maniera esponenziale, che negli ultimi anni ha fatto sempre un passo in avanti, un passo giusto e ponderato e quindi è una realtà molto importante che era giusto visitare per informarsi, per vedere e proprio anche per un saluto doveroso. Sono contento che Mancio sia diventato per la prima volta capitano quest'anno alla Nazionale, è una cosa per la sua carriera molto importante, è un compito che ha svolto in maniera seria. Mi fa piacere rivedere Simone, che è un po' quello che non lo vedevo, poi è un amico anche oltre ad essere il mio allenatore della Nazionale, quindi sono contento di vederlo. La figura dell'allenatore è una figura che non può essere più quella di un guru, di uno stregone, ma oggi allenare significa far parte o condurre uno staff allargato di varie competenze come in tutti i campi. Qualche giorno fa abbiamo chiesto a coach Pillastrini cosa ne pensasse di te. Lui è una persona molto semplice, è un campione che ha vinto tanto, si capisce perfettamente che vuole vincere altrettanto, quindi anche lui non è certamente in una fase discendente, non è venuto qui per gestire la fine di una carriera, ma per programmare ancora i successi. E tu? Cosa ne pensi di coach Pillastrini? Mi trovo molto bene con lui, lo conoscevo come persona, come allenatore, forse non tanto perché comunque non ho mai avuto, è in fluido la mia senta con Pillastrini qui in panchina.